Un saluto a tutti gli amici Granata, eccoci qui, Piazzale Grande Torino sotto la Torre Maratona, è tornato il campionato qui in casa, turno infrasettimanale contro il giallo-blu del Verona, una sfida che ha il sapore di storia, ne abbiamo parlato in questi giorni sulle colonne di Toro News e qui Manolo Chirico per ovviamente il consueto appuntamento pre-partita. Vediamo subito le formazioni perché da parte di Ventura sembrano essere stati sciolti tutti i dubbi, Padelli in porta, confermatissimo il modulo 3-5-2, poi difesa a tre, Glick nonostante la diffida, ma un po' lo aveva anticipato il tecnico durante la consueta conferenza stampa della pre-partita, della vigilia anzi, abbiamo visto quindi un Glick che potrebbe partire a titolare, quasi sicuramente sarà così, al centro dovrebbe addirittura tornare Rodriguez perché Bovo a questo punto può riposare e il Pelado a quanto sembra completamente recuperato dal proprio infortunio. Moretti titolare inamovibile nel centro-sinistra, poi sulle fasce vediamo Darmian sulla destra e D'Ambrosio a questo punto che viene comunque schierato in quanto il ragazzo nonostante abbia speso tanto a Bologna e nelle precedenti partite sembra aver recuperato ed essere in piena forma. In questo momento c'è ancora in realtà un piccolo ballottaggio con Pasquale, non è da escludere che alla fine l'ex Udinese, arrivato in prestito durante le ultime battute del mercato estivo, possa partire titolare al posto del Danilo nazionale, ormai lo vogliamo chiamare così perché D'Ambrosio merita la maglia azzurra e questa sera, ma soprattutto nel derby, avrà l'occasione per dare un segnale al CT Prandelli. A centro-campo ovviamente un po' di turnover, c'è Bascia, riposa Brighi, Vives titolare in cabina di regia, il ballottaggio del Caduri-Farnerud sembra in quest'ultimo momento vinto proprio dallo svedese, l'abbiamo soprannominato Principe di Svezia per i suoi lineamenti teutonici e insomma vedremo quindi se sarà confermata questa mediana A3 fatta appunto da Bascia, Vives e Farnerud. Davanti Cerci, ovviamente non si può pensare in questo momento a un Toro senza all'esterno numero 11, la Stella Granata, e davanti Meggiorini poiché immobile sarà a quanto ci dicono riservato per la grande sfida del weekend di domenica alle ore 12.30, il derby contro la Juventus. Ci riaggiorniamo per la prepartita dall'interno dello Stadio Olimpico di Torino, Toro Verona in diretta su www.toronews.net, per il momento è tutto Manolo Chirico, un saluto a tutti.